Per me è un grandissimo onore aver portato questo prototipo al campionato italiano e aver disputato un debutto di una moto in questo campionato. E devo dire la verità che la prima gara a Mantua emotivamente è stata veramente dura, avevo tanti sbalzi d'umore o di pressione, però è andata molto bene. Abbiamo vinto la prima manche, la seconda un po' sbagliato e la seconda gara a Cingoli non è andata in granché, non era a posto fisicamente, avevo una piccola protusione alle vertebre. Però adesso abbiamo sistemato un po' di cose, io mi sento meglio, quindi da adesso in avanti penso che è il momento di spingere, è il momento che posso divertirmi. Mi sento sempre meglio insieme alla moto, la moto come hai detto è in continua evoluzione, da Cingoli abbiamo avuto altri piccoli upgrade diciamo. Sono in costante sviluppo, da prototipo è così, questa moto non è ancora una pre-serie, quindi è in continuo cambiamento ogni giorno, questa è la cosa bella. Ci sono periodi magari che si fa più fatica, periodi invece che vai in direzione giusta, però è sempre più vicino a essere una moto di serie, quindi sono veramente contento e stiamo facendo un bel lavoro. Allora, a essere sinceri, quando abbiamo firmato questo contratto con Ducati l'obiettivo era fare gare, ma non per avere risultato, ma per prendere informazioni perché ci servono per il prossimo anno, per fare il debutto al mondiale, abbiamo bisogno di fare manche, questa è la verità, però quando sei qua io dentro di me sono competitivo e voglio vincere, quindi a non vincere ci sto male. Allora, adesso che abbiamo visto che ci siamo, ormai voglio puntare in alto e come ho detto da adesso in poi penso che è il momento di ingranare un'altra marcia e spingere un po' di più. Diciamo che sicuramente è un impegno bello importante perché comunque la moto è nuova, è tutto un progetto nuovo, quindi stiamo cercando di portarla più velocemente possibile davanti, questo sicuramente si sta avvenendo perché comunque Alessandro ha fatto delle belle gare, ha avuto un po' di sfortuna in altre, però la moto sicuramente si sta comportando bene, ha bisogno di tanta attenzione ancora, però stiamo facendo un ottimo lavoro e diciamo che abbiamo fatto dei grandi passi specialmente nell'ultimo periodo e quindi Alessandro sicuramente già in questa gara sarà più pronto delle gare precedenti. Sicuramente l'affidabilità fortunatamente non ci sta dando problemi, adesso stiamo lavorando sicuramente su una moto, su un progetto di una moto comunque standard, una moto che uscirà l'anno prossimo in vendita, quindi a livello racing proprio per partecipare alle gare stiamo iniziando adesso a fare qualcosina di più intenso, però la moto si sta comportando come ha detto Dea la grande, insomma quattro risultati pieni e comunque è una cosa fantastica per una moto che non ha storico, non ha un motore nuovo. Sì, in effetti questo nuovo progetto è nato bene, chiaramente abbiamo avuto un esordio a Mantova particolarmente felice con la prima vittoria di Alessandro nella prima gara e siamo soddisfatti, la moto è competitiva, dobbiamo ancora lavorare su alcuni aspetti ma siamo contenti, adesso ci concentriamo sul mettere a punto la parte elettronica e sulle sospensioni, a partire dal mese di luglio incomincieremo a lavorare anche in ottica preparazione del mondiale ma con un occhio particolare sul prosieguo del campionato italiano. Ovviamente deve essere il nostro obiettivo, poi sappiamo che ci sono dei concorrenti forti per cui Tropepe, Gifting, Panzer e altri piloti che stanno andando molto forte, qui a Montevarchi c'è Buonaccorsi quindi è sicuramente un campionato di altissimo livello, noi pensiamo che Alessandro sia uno dei piloti che se lo possono giocare all'italiano perché l'ha fatto negli anni passati, la moto sta crescendo e quindi ci proveremo.